Quattordicenne cade per quattro metri dalla balaustra della cantoria della chiesa di Tonadico, salvo per miracolo, è in osservazione all'ospedale Santa Chiara di Trento. E buonasera dalle redazioni di Bolzano e di Trento. Un ricoverato in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento il quattordicenne di Tonadico che questa mattina alle 10 è caduto dalla balaustra della cantoria della parocchiale di San Sebastiano nel centro. Premiera Otto, la vedete. Il ragazzo è stramazzato al suolo. Il rito religioso è stato interrotto per consentire i soccorsi che sono stati tempestivi. Sono intervenuti i Trentini Emergenza 118, Carabinieri e l'elisoccorso provinciale che ha trasportato il ragazzo in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Grazie a tutti.